Nel caso del canale Contorta io sono totalmente a difesa di quei posti di lavoro perché sono nell'ambito della scelta imprenditoriale che questo non è un problema ecologico, non è un problema di mancate scelte strategiche della città, anzi negli ultimi vent'anni credo che il porto abbia lavorato benissimo come tutte le aziende intorno a loro. Bisogna pensare soprattutto al futuro delle 5.000 famiglie e degli operatori della croceristica, dice l'imprenditore veneziano Mattia Malgara quando si discute dello scavo del canale Contorta Sant'Angelo, alla dignità dei lavoratori, alla salvaguardia dei posti di lavoro in ballo perché la posta in gioco è troppo alta. Gli dà da mangiare alla fine mese se questo settore poi crolla perché i media ci vanno contro e ci vanno a nozze in tutto il mondo perché sono brutte le navi, certamente sono dei grandi mostri ma infatti proprio per questo viene scalato e viene dragato il canale Contorta. Queste navi sono e restano giganti del mare ma sono parte del futuro stesso dell'economia locale e nazionale, per questo la soluzione Contorta promossa dal comitatone è il minore dei mali, aggiunge, sicuramente lo è in termini occupazionali. Sempre sul lavoro si concentra l'imprenditore quando pensa ai tagli che sui lavoratori comunali il commissario intende attuare per far quadrare il bilancio, una decisione che ha scatenato pesanti proteste proprio durante gli eventi clou della città, prima la mostra del cinema di Venezia poi la regata di domenica scorsa. È sempre facile tagliare sui dipendenti pubblici perché sono quelli più vicini al bilancio comunale e quelli che possono essere influenzati dalle scelte politiche o in questo caso del commissario per trovare le quadre sul bilancio comunale.